Benvenuti agli esercizi di meraviglia di Burabaccio. Per l'occasione ho queste bellissime penne glitterate. Non so se voi vedete i meravigliosi brillantini, ma io sì. Sono queste pennine molto belle. Questi esercizi di meraviglia, quelli di oggi, li faremo con le foglie. Queste foglie rosse che ho trovato in una siepe vicino a casa e già da sole sono uno spettacolo. Cosa possiamo fare con queste belle foglie? Ad esempio, possiamo fare... Lascio un po' così col fiato in sospeso. Indovinate un po' una cosa che mi piace tanto? Una sirena. Una sirena di foglie. Le mani, il corpo, la testa, e in ultimo i capelli in cui potrò sfoggiare questo bello giallo glitter. Ma non contenta... Ecco qua l'arma letale. Il glitterone. Con cui fare delle stelline di asciugatura variabile dalle 2 alle 15 ore. Bene. Per le vostre sirene ricordatevi della siepe del vicino di casa. Ciao!